No, no! Dai, no, ti prego! Oh! No! Ma che state facendo? Dai, cazzo! No, entri in quella casa! Go-in, go-in! Ah, comportamento scorretto! Go-in! Ma che stanno facendo? Stanno facendo! No, no, ecco! Sì! Vabbè, possiamo togliere, tanto non ci entreranno più là dentro. Divettentissimo! Sì, vittoria! Autosuccesso quella trappola. Quanta suspense! Vabbè, sì! Vabbè, sì!